Anche per la terza età il Natale è l'occasione per stare tutti insieme, così al Centro Anziani di Via Trapani alla Dispoli è stata organizzata una tombolata alla quale hanno preso parte una rappresentanza di sordi, un momento di condivisione grazie ai progetti dell'amministrazione comunale. Il nostro intento è quello di includere tutti, persone utenti e sordi insieme per fare comunità, questo è il nostro scopo e ci stiamo provando e avremo anche molte altre iniziative da attuare. È opportuno capire che il Centro Anziani serve per mettere insieme persone che hanno ed ha diverse esigenze diverse, qualche giorno fa abbiamo regalato dei tablet grazie all'intervento di un'azienda di la Dispoli ai due Centro Anziani in maniera tale che si possa parlare anche di digitalizzazione, quindi qualche cosa che serva ad aprire i centri anziani anche a altre categorie e anche rispetto all'età, quindi una bella iniziativa. Giornate come queste non fanno altro che rendere più belle le feste natalizie. Sì, è bellissima perché oltre agli anziani che sono tutti pomeriggi con noi, noi ospitiamo tutti i giorni un gruppo dei non utenti e quindi oggi è dedicata a loro insieme ai nostri anziani.